Una lunga seduta di Consiglio Comunale che è stata certamente utile per consentire all'amministrazione comunale di esporre punto per punto le ragioni di criticità dell'attuale emergenza. Registrando le posizioni che sono emerse nel dibattito in Consiglio Comunale, provvederò come amministrazione attiva ad redigere un cronoprogramma esponendo punto per punto la soluzione per le singole criticità e esponendo anche i tempi nei quali queste criticità possono essere rimosse a seguito di interventi dell'amministrazione comunale ma anche a seguito di delibere del Consiglio Comunale che possono sbloccare complessivamente tutti insieme questo tipo di emergenza. Sulla base di questo cronoprogramma e di questo spirito di collaborazione che il Consiglio Comunale vorrà dimostrare sarà possibile sicuramente dare una risposta al dolore dei familiari ai quali voglio esprimere tutto fino in fondo il disappunto e anche il rammarico augurandomi impegnandomi di potere con il concorso degli uffici comunali e con il concorso del Consiglio Comunale fornire le risposte concrete assumendosi ognuno punto per punto le proprie rispettive responsabilità in modo che si sappia esattamente chi deve fare che cosa e in quali tempi questo è possibile fare. Adesso ci sono interventi che sono particolarmente complessi questo sarà esposto nel cronoprogramma con l'indicazione se rientra o non rientra nelle competenze del Sindaco del Consiglio Comunale o se è necessario chiedere l'intervento di altri organismi ma tutto questo sulla base di un cronoprogramma che tiene conto, ripeto, di quella indicazione del Consiglio Comunale sulla cui base adotterò le ordinanze necessarie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.